Buongiorno a tutti, oggi è 3 aprile 2011, siamo qui a Cervia in questo splendido luogo della costa romagnola, siamo qui presenti nella quindicesima edizione della Gran Fondo della Via dei Sali, siamo in compagnia di queste splendide persone, la Sbike 99, il... Cristian, Lucio, Maurizio, Roberto, Luca... Alessandro, il grande e il sottoscritto, un saluto in pensiero per tutti gli amici di Aquilani che ci accompagna in questa bella e grande esperienza, ciao a tutti, un abbraccio!